benvenuti nel nostro canale molto strano come se non vedete il titolo invitiamo i nuovi arrivati che stanno visualizzando questo piccolo video qua un po demenziale di spolliciare e iscriversi al canale se non lo siete ancora commentate e noi risponderemo allora messaggio importantissimo questo video è in risposta alla sfida lanciata dai elezioni di coppia in quanto fanno questo balletto qui ma abbiamo voluto non far mancare questa nostra performance e risponderli con un video contro sfida detto ciò vi lasciamo una buona visione a questo piccolo sketch è tutto semplicemente per ironia e divertimento non siamo professionisti ma abbiamo voluto semplicemente divertirci un attimo detto ciò un saluto e un abbraccio a tutti voi è vero a tutti voi strani come noi e vai con la intro vai con la intro grazie a tutti